ottica apicella via canale nocera inferiore sono in compagnia di antonio apicella salve antonio salve salve qui davvero un vasto mondo che riguarda il mondo degli occhiali degli occhi partiamo innanzitutto dagli occhiali da vista ho dato uno sguardo in giro c'è davvero ogni tipo di marca noi abbiamo qualsiasi tipo di occhiale qualsiasi brand dal brand più prestigioso ai prendi a quelli più economici siamo un vero plurimarche per tutte le tasche per tutte le tasche per tutti i gusti perché dicevamo c'è l'occhiale di tendenza l'ultima moda c'è qualcosa sempre bello ma anche di più economico insomma si accontenta davvero tutti l'anziano il giovane il ragazzino il bambino certamente no cerchiamo di accontentare sempre i nostri clienti e fortunatamente ci riusciamo quasi nella maggior parte dei classi e poi ci sono sempre tante promozioni sì abbiamo tantissime promozioni l'ultima che stiamo facendo sugli occhiali sportivi per questi giovani ragazzi che si avventurano nel mondo del calcio abbiamo buone promozioni sugli occhiali da sport e la stessa logica vale per gli occhiali da sole anche in questo caso troviamo una vasta scelta poi in questo periodo insomma tutti sono lì pronti a comprare qui si trovano tutte le ultime tendenze riuscire a trovare qualsiasi tipo di occhiale e siamo esclusivisti di zona delle migliori marche attualmente in bocca sul settore ottimo diciamo anche che se qualcuno vuole comprare un occhiale da vista e vuole prima insomma fare un controllo tu che cosa effettui effettuiamo proprio una visita optometrica un controllo visivo totalmente gratuito e poi valutiamo se fare l'occhiale oppure no senza scopo di e voglio anche ricordare che da voi si trova una vasta scelta di lenti a contatto con varie marche si abbiamo dalle johnson alle ciba qualsiasi tipo di lentina dalle morbide alle gas permeabile anche quelle là dalle uso giornaliero anche a uso permanente annuale e così via e Antonio qui da voi si trovano anche gli occhiali antiriflesso blu cosa sono sì una novità che è uscita quest'anno è praticamente un tipo di lente particolare che elimina tutte le fonti di luce blu quindi tutte le fonti delle luci a led e dei fari delle macchine di ultima generazione e allora non resta che venire qui da ottica apicella si troveranno tanti tipi di occhiali professionalità cortesia e anche tante promozioni grazie Antonio alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.